Buongiorno ragazze, oggi video dedicato allo smokey eyes ragazze, è un video tanto richiesto che mi avete chiesto in tantissime e finalmente riesco a farlo quindi vedrete soltanto il trucco degli occhi, la sfumatura che io applico sul mio occhio, quindi buon video ragazze questo particolare dello scotch io primo lo applico sulla pelle per levare la parte piccicosa per non dare fastidio poi alla pelle sul viso e lo metto per farmi bene la riga, così mi viene tutto perfetto senza sbavature ragazze quello che vado a fare io il mio metodo è partire da un colore più o meno medio di intensità e poi vado inserendo nella parte angolare quella scura quindi in questo caso è un nero blu grigio diciamo, per poi fare la parte chiara invece nell'altra parte dell'angolo dell'occhio e poi sfumare il tutto questa è la mia tecnica ma molti usano prima la parte chiara e poi inserendo comunque le intensità che vanno sempre più ad aumentare io invece mi trovo benissimo così perché sul mio occhio mi piace fare questo tipo di sfumatura ragazze qui infatti l'altra parte dell'angolo dell'occhio dove vado ad applicare invece la parte più chiara del colore che io ho scelto e quindi questo è un argentato con il bianco perlato grazie a tutti come avete visto ragazze che ho applicato la matita nera invece sotto non la metto mai dentro però dopo di che io lo sfumo col pennellino quindi riprendo sempre la parte più scura nera o grigio scuro e le vado a sfumare leggermente poi passo il mio mascara le pettino bene le sciglie e il gioco è fatto ho voluto realizzare questo mini mini tutorial di come faccio il mio smoky perché me ne avete chiesto in tantissime soprattutto la mia amica Maria che desiderava vederlo me l'ha chiesto anche Angela Angela è una ragazza anche lei fa video qui su youtube e tante altre ragazze che mi avete chiesto del mio trucco io ogni volta non lo faccio non lo faccio ma adesso l'ho fatto infatti non vi ho fatto vedere il procedimento della base né del rossetto perché già questo ve l'avevo fatto vedere in passato ma proprio era dedicato a come faccio appunto io l'occhio sfumato e perché mi viene questa riga perché lo faccio con lo scotch questo è un metodo che uso da anni che mi piace comunque vi ho sempre detto che un'altra mia passione appunto è il trucco a volte mi ci dedico di più a volte no oggi siccome devo scendere e devo fare delle cose importanti tra l'altro devo andare a fare la spesa avevo pensato ho detto a che ci sono lo faccio e quindi l'ho fatto per voi ragazze spero che vi è piaciuto tantissimo questo video anche se è piccolino però ho mantenuto la mia promessa di farvi vedere come appunto trucco i miei occhi ragazze noi ci vediamo domani con un altro video sarà un video in collaborazione e vi aspetto in tantissime ciao ragazze